Dopo nove anni il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite ha presentato un nuovo rapporto sul riscaldamento globale. Si tratta di un documento di grande importanza perché è firmato da migliaia di scienziati provenienti da 195 paesi e il gruppo intergovernativo di esperti sotto l'egida dell'ONU. È possibile ma dobbiamo agire ora? Questo è il decennio decisivo, uno degli aspetti emersi ma ne parliamo con Andrea Grieco, divulgatore sui diritti umani e sostenibilità e esperto dell'Agenda 2030. Ben ritrovato Andrea. Buongiorno, ben ritrovati a voi, grazie mille. Grazie a te. Quello che dicevi è vero, il report IPCC a tutti gli effetti non lascia più scelte, non lascia più interpretazioni o giustificazioni o qualsiasi tipo di qualunquismo sull'origine del problema. L'origine del problema e della crisi climatica che stiamo vivendo sono i combustibili fossili, sono la causa principale del riscaldamento globale e sono poi anche la causa di tutte quelle che sono le conseguenze, gli effetti della crisi climatica. Che ripete anche l'IPCC report che è un documento diciamo politico più che altro perché è una sintesi di tutte quelle che sono le rilevazioni fatte sino ad oggi. Ci ricorda ancora una volta che la temperatura globale dal 1970 è aumentata e ancora di più negli ultimi 50 anni, quindi ovviamente per motivi legati a origine antropica, quindi per motivi legati all'uomo e allo sviluppo dell'essere umano. Gli imperativi quali sono Andrea? L'imperativo è assolutamente interrompere l'utilizzo delle fonti fossili entro il 2030, ridurre del 48% le emissioni globali di anidride carbonica e del 34% le emissioni globali di metano. Questo vuol dire che se comunque l'IPCC report ci dà uno spaccato, che è uno spaccato anche un po' preoccupante della situazione, d'altra parte ci dice abbiamo una soluzione e la soluzione sta nella riduzione delle emissioni ma anche nell'utilizzo delle tecnologie per affrontare la crisi climatica. Sono soluzioni multiple, fattibili? Sono soluzioni fattibili, ma come dicono tutti gli esperti che poi hanno creato il report di sintesi, sono soluzioni fattibili se adottate da subito. Se da prossimo mese cominciamo ad implementare delle politiche che aiutino poi a ridurre le emissioni di CO2, allora possiamo sperare effettivamente in una riduzione drastica delle emissioni a livello globale. Se questo non lo facciamo siamo in ritardo. Di fatto è interessante come il report IPCC per la prima volta della sua storia utilizza un grafico che sono le strisce del clima, le strisce del clima che ovviamente vanno da strisce celesti, blu, prima della rivoluzione industriale a rosse, arancioni, gialle ai giorni nostri, che indicano proprio l'aumento del cambiamento climatico e dei danni provocati al cambiamento climatico. In quelle strisce per la prima volta inserisce anche delle fasce di età e chiaramente dice, è anche scontato in realtà, però dice che i nati dal 2010 in poi soffriranno ancora di più gli effetti della crisi climatica, siccità, inondazioni, migrazioni climatiche e lo dice chiaro in tonno. Quindi questo è proprio un allarme che il report vuole lanciare e dice il prossimo report sarà alla fine di questo decennio, alla fine di questo decennio sapremo se siamo stati bravi o se non abbiamo effettivamente affrontato la crisi climatica. Ecco, per comprendere la gravità del problema, perché evidentemente forse non ce ne rendiamo conto, il segretario generale delle Nazioni Unite parla di umanità in bilico, con la necessità di disinnescare una bomba a orologeria. Esattamente, è letteralmente un'umanità in bilico, è letteralmente un'umanità che è in balia degli effetti della crisi climatica. La bomba a orologeria di cui parla Guterres è la bomba a orologeria che gli effetti della crisi climatica possono provocare e quindi, ne abbiamo già parlato anche quando c'era stata la COP, la giustizia climatica, le migrazioni climatiche. Nel momento in cui le persone soffrono un dramma, che è un dramma umanitario, una mancanza di cibo, una mancanza di diritti che derivano poi da motivi legati al cambiamento climatico, migrano, quindi lasciano la loro casa per andare in altri paesi. Questo ovviamente appesantisce quelle che sono le politiche e gli stati, gli equilibri degli stati e pesa ancora di più poi su quelli che sono i conflitti interni. Potrebbe causare innumerevoli conflitti interni, sino a 5 milioni di rifugiati politici, di rifugiati climatici nei prossimi 10 anni. Quindi sono numeri veramente enormi che sono destinati a crescere ancora di più. Ecco, in chiusura Andrea, questa è in realtà una guida per i governi, ma a questi si dà un'indicazione, un indirizzo preciso? Allora, questa si dà un indirizzo preciso e l'indirizzo preciso è quello di ridurre da subito le emissioni di CO2 e di attuare delle politiche che l'ONU ha già definito, ha già tracciato con l'accordo della COP. A parte questo, quello che si chiede ancora di più ai politici è di prendere delle posizioni e di unirsi in consessi che facciano andare avanti poi quelle che sono le trattative. 10 anni è praticamente domani? 10 anni è domani, 10 anni è domani e non abbiamo più la possibilità di alzare l'asticella. Lo dice chiaramente il report IPCC, lo abbiamo detto dopo la COP, 1.5 di centigradi di riscaldamento globale è il limite massimo da non superare. Quindi questo dobbiamo tenerlo ben a mente e oggi siamo già a 1.2, quindi 10 anni si fa presto ad arrivare a superare 1.5, quindi occorre immediatamente cambiare rotta. Andrea, ti ringrazio, ti auguro buona giornata, sempre molto interessanti i tuoi approfondimenti, spero di risentirti presto. Grazie mille a voi. A presto.